numero 5 con questo grande schermo motorizzato non c'è bisogno di andare al cinema potrete guardare comodamente a casa qualsiasi film è ideale anche per presentazioni aziendali o conferenze grazie al design compatto utilizza al meglio lo spazio il telo è realizzato in tessuto a rete di colore bianco per mantenere un'elevata qualità dell'immagine è avvolgibile scende e risale con radiocomando a distanza fino a 30 metri le dimensioni del telo sono 203 x 152 centimetri trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 questo schermo di proiezione premium è fatto di tessuto pvc bianco offre una dimensione d'immagine di 2,80 x 1,58 metri grazie a un telecomando a radiofrequenza offre comfort e facilità d'uso il dispositivo ha un design elegante e lussuoso con un alloggiamento in alluminio bianco un bordo laterale nero di 6 centimetri e un black drop di 60 centimetri ha anche una motorizzazione silenziosa questo schermo elettrico da incasso di 2,80 x 1,58 metri è ideale per sale conferenze di lusso e home cinema trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 3 questo schermo per proiettori misura 200 x 200 centimetri adatto a scuole presentazioni powerpoint home cinema ha un eccellente rapporto prezzo prestazioni pesa 13 kg ma non è facile da trasportare grazie alle sue ridotte dimensioni il treppiede garantisce un'ottima stabilita e grazie ai suoi piedini di gomma non rovina il pavimento la discesa del telo può essere regolata a piacimento permettendo di impostare il formato che si desidera i colori vengono riflessi fedelmente ed appaiono brillanti lo schermo è compatibile con ogni formato di proiezione il cassonetto ed il telo sono molto resistenti offrendo ottime prestazioni trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 2 misura 200 x 150 centimetri l'installazione è facile e veloce preferibilmente sulla parete con tasselli a seconda della resistenza del materiale da forare lo schermo funziona molto bene lo stesso vale per il telecomando a radiofrequenza e il controllo cablato sul cavo di alimentazione il tessuto si alza e si abbassa senza rumore dopo aver disimballato si sente un forte odore di plastica che dura da due a tre giorni in pratica la differenza con la proiezione diretta su una parete bianca è minima la differenza è dovuta principalmente al bordo nero che fa risaltare meglio le immagini e i video se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 1 è uno schermo di proiezione motorizzato con dimensioni di 300 per 187 centimetri una potenza di 40 watt e una tensione di 230 volt ha una finitura ordinata con bordi neri sul fondo a sinistra e a destra ognuno spesso 6 centimetri e un retro nero opaco è uno schermo di alta qualità con una motorizzazione silenziosa e una barra di zavorra che si adatta perfettamente all'alloggiamento può essere montato a parete o a soffitto e può essere regolato in altezza è adatto a tutti i tipi di proiettori il telecomando ir offre comfort e facilità d'uso è perfetto per grandi sale di conferenza e home cinema in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto